Sono molto contenta di essere qui, ma l'emozione non fa parte di me. Io ho traversato una lunga vita e l'emozione più grande l'ho provata quando è nato il mio primo figlio. A chi dedica erare? A mio padre, l'uomo più importante della mia vita, ucciso per la colpa di essere nato.